Possiamo dire, senza tema di smentita, che con l'invasione russa dell'Ucraina il mondo è diventato un posto molto più instabile e molto meno sicuro. E in una situazione di questo genere è chiaro che le grandi dinamiche internazionali, le dinamiche tra le superpotenze, assumono un ruolo, una valenza, un significato molto molto importante. E in particolare i rapporti tra Cina e Stati Uniti, che sono chiaramente in questa fase gli assoluti protagonisti della politica internazionale, finiscono col ricoprire un'importanza che va ben al di là di un rapporto bilaterale. Di conseguenza, la prima visita di un segretario di Stato americano in Cina, Anthony Blinken, che è andato a Pechino cinque anni dopo la visita di Mike Pompeo, che era il segretario di Stato americano dell'amministrazione Trump, questa visita riveste un ruolo molto importante ed è quindi proprio di questo che voglio parlarvi oggi, che è il 19 giugno 2023. Io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia ogni giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Purtroppo in Italia le notizie di politica estera, salvo macroscopiche eccezioni, il più delle volte finiscono abbastanza in fondo alla foliazione dei nostri giornali e alle scalette dei telegiornali. Io credo che questo sia abbastanza un problema, perché è evidente che dalle grandi decisioni di politica estera dipendono i destini del nostro pianeta e anche perché, se ci pensiamo bene, il livello di interconnessione che viviamo in questo secolo è tale che gli scenari internazionali in qualche modo incidono comunque nelle dinamiche interne dei singoli paesi, compreso il nostro. Quindi quando accade qualcosa di così importante come la visita del segretario di Stato americano Blinken in Cina, io credo che valga la pena di prenderne buona nota e anche di commentare adeguatamente la notizia. Va detto che la visita di Blinken a Pechino cade in un momento nel quale le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono probabilmente al loro minimo storico, da quando le relazioni diplomatiche tra i due paesi furono stabilite nel 1979. Questo in parte è dovuto anche al fatto che l'atteggiamento cinese in politica internazionale è molto cambiato negli ultimi anni. La Cina storicamente è sempre stato un grande paese, ma non ha mai avuto una grande vocazione alla politica estera, nel senso di avere un atteggiamento espansionistico o colonialista. La Cina non ha mai avuto una grande flotta. La Cina si considera un po' il centro del mondo e quindi in un certo senso tutto quello che accade in Cina soddisfaceva il bisogno, l'attenzione della Cina e dei cinesi rispetto al resto del pianeta. La stessa scritta, lo stesso ideogramma che i cinesi utilizzano per scrivere il nome del proprio paese, rappresenta un rettangolo diviso in due da una linea verticale e questo indica proprio che la Cina è il paese di mezzo, è per loro il cuore del mondo, quello che succede lì esaurisce tutto ciò che interessa sapere. Però questo atteggiamento è molto cambiato negli ultimi anni, in particolare il famoso progetto della Via della Seta è stato proprio un progetto che ha avuto in sé proprio un atteggiamento, una inclinazione di tipo espansionistico. Attraverso la Via della Seta la Cina ha stabilito rapporti con tanti paesi in giro per il mondo, legandoli a sé non soltanto con la corda del debito ma anche con un legame politico e anche cercando di espandere il proprio soft power, un po' come hanno fatto sempre gli americani che hanno stabilito la propria supremazia mondiale non soltanto su una forza tecnologica, economica e militare ma anche appunto sul soft power, sulla cultura, sul cinema, sulla musica, cosa che anche i cinesi hanno provato a fare. Poi c'è da dire che i cinesi negli ultimi anni sono cresciuti economicamente tantissimo, l'economia cinese di fatto se la batte diciamo con l'economia americana e molti osservatori dicono che nella seconda metà di questo secolo l'economia cinese sarà la prima economia del mondo. Guardiamo anche alla tecnologia, oggi i cinesi hanno una capacità di esprimere tecnologie avanzate che per esempio volendo fare un paragone con la guerra fredda i russi non hanno mai avuto rispetto all'America degli anni 70 così come in quel periodo il blocco sovietico non poteva esprimere un'economia nemmeno lontanamente paragonabile all'economia occidentale. Quindi oggi le cose sono molto diverse perché gli americani si trovano davanti a un concorrente forte economicamente, forte dal punto di vista industriale e tecnologico, forte anche dal punto di vista della presenza nel mondo e anche davanti a un mondo meno incline a dividersi in due blocchi come fece negli anni 70. Oggi ci sono importantissimi paesi, pensiamo all'India, pensiamo al Brasile di Lula, che non intendono schierarsi completamente né da un lato né dall'altro. Quindi il mondo è un posto molto più frantumato, molto più parcellizzato rispetto a quello sul quale gli Stati Uniti potevano contare durante la guerra fredda. E a tutto questo naturalmente si aggiunge anche una situazione particolarmente delicata che è la situazione, diciamo così, politico-militare. Perché innanzitutto abbiamo un elefante nella stanza, anche in questo caso, che è la guerra in Ucraina. E sappiamo benissimo che per la guerra in Ucraina i cinesi hanno deciso di tenere un atteggiamento che, se vogliamo essere generosi, possiamo definire ambiguo, nel senso che non hanno mai condannato i russi, ma possiamo dire apertamente che di fatto non è anche mai nascosto una certa predilezione nei confronti della parte russa rispetto all'invasione dell'Ucraina. Basti pensare a tutte le volte in cui Putin e Xi hanno sottolineato proprio la vicinanza e il carattere strategico della loro alleanza, proprio mentre il mondo chiedeva alla Cina di prendere una posizione diciamo di mediazione, un'iniziativa che in realtà non ha mai avuto nessun effetto perché non è mai stata credibilmente indipendente. La Cina ha sempre, diciamo così, tenuto una posizione più filorussa e questo è stato chiaro a tutti e in particolare agli ucraini e quindi questo è chiaramente in questa fase un ulteriore problema anche nei rapporti con gli Stati Uniti e così come c'è un ulteriore elemento di grandissima tensione che è quello che riguarda Taiwan perché gli Stati Uniti tengono naturalmente all'indipendenza di Taiwan. Ricordiamo una visita fatta da Nancy Pelosi proprio nell'isola che è stata vissuta da Pechino come un vero e proprio dito in un occhio al punto che si legge che Biden avrebbe tentato di frenare Nancy Pelosi da questo viaggio che invece si è fatto e diciamo che in questo momento le manovre sia delle due marine che delle aviazioni hanno sfiorato in più di un'occasione incidenti che potrebbero tracimare, che potrebbero dar luogo a una crisi militare vera e propria e peraltro si sa che i cinesi a questo punto della loro integrità territoriale perché loro considerano la Cina assolutamente un pezzo integrante della loro patria appunto a loro non intendono assolutamente cedere quindi molti dicono che soltanto una questione di capire quando occuperanno Taiwan basti vedere peraltro l'atteggiamento che hanno avuto rispetto a Hong Kong che è stato un atteggiamento diciamo segnato caratterizzato da un vero e proprio pugno di ferro quindi questo questa visita di Blinken è una visita molto importante soprattutto perché dovrà organizzare dovrà diciamo preparare il terreno per una visita tra Biden e Xi provando a trovare un nuovo equilibrio tra queste due superpotenze dalle quali naturalmente dipende la tranquillità l'equilibrio e la pace in tutto il mondo vedremo quando si incontreranno ci sono un paio di occasioni possibili ma è una situazione che va seguita con grande attenzione e molto molto da vicino io mi fermo qui e vi do appuntamento domani la versione di Ivan è un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato all'omonimo libro edito dalla nave di vi ringrazio buon anno vi ringrazio